Non sono un bugiardo, ho ucciso migliaia di persone, ho soddisfatto più tossici di tutte le aziende farmaceutiche messe insieme, ho sottratto figli e genitori, moglie e mariti, ho sterminato intere generazioni. Ma bugiardo no, non lo sono. Gli altri sono crimini contro l'umanità, mentire è un crimine contro se stessi. Sono il capo dell'organizzazione del Santa Blanca, il vostro cartello. Ho fatto un sogno, una terra dove far crescere la nostra coca, dove produrre cocaina, dove avrei potuto fare affari senza polizia, governi, eserciti e Yankee. Sì, nel mio sogno, una donna mi ha chiesto... Suegno, e se avessi un paese tutto tuo? Come Mosè, ho guidato il popolo verso la terra promessa, Bolivia. Venimo qui e comprammo i campi di coca. Il resto l'abbiamo preso. Abbiamo comprato polizia, esercito, giudici, politici. Stavamo per diventare noi il governo. Eravamo a un soffio da realizzare il mio sogno. Di creare un narco Stato. La nazione del Santa Blanca. La nazione del Santa Blanca.